Genitorialità, generatività e generati delle nuove famiglie. Questo è il tema del forum promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Campania in collaborazione con la Società Italiana Terapia Familiare e la Società di Ginecologia e Ostetricia. Focus del dibattito, la procreazione medicalmente assistita. Un momento di confronto e riflessione con medici, esperti del settore e famiglie per approfondire le trasformazioni dei contesti familiari e le loro implicazioni sulla psiche e le relazioni interpersonali. Al tavolo dei relatori i presidenti delle due società Antonio Cerre e Antonio Chiantera e Rosetta D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania. Abbiamo il dovere di aiutare, sostenere e di fare in modo che la genitorialità e la maternità siano davvero valorizzate fino in mondo e diventano elemento essenziale non solo della nostra sanità, del nostro sociale, delle nostre prese in carico come istituzioni ma soprattutto che il futuro della nostra società si gioca sulla capacità che abbiamo di mettere al mondo e di dare la possibilità di mettere al mondo figli anche in maniera molto partecipata perché si è madre non solo perché un figlio lo si fa ma soprattutto perché un figlio lo si educhi, lo si cresce e lo si fa integrare davvero nella società.